quando siamo andati ai rigori non ho visto un rigore dell'Argentina i miei figli urlavano da un lato o dall'altro non ho visto rigori una roba pazzesca sudavo come un matto una roba pazzesca però secondo me per quanto riguarda la partita dell'Argentina se vogliamo entrare nello specifico di Argentino-Olanda il giocatore più grande della storia quando dicono eh ma non ha personalità e non ha questo non ha quest'altro avete visto? voi ovviamente sì cosa ha fatto dopo la partita è andato direttamente a Van Gaal non all'allenatore così tanto per è andato da Van Gaal a dire caro amico vieni un attimo qua perché non parli adesso? è tanto che parli per i miei gusti stai parlando tanto io ho grande stima di Van Gaal noi abbiamo stima di Van Gaal però ho ancora più stima del re quando è andato da lui a dire adesso non parli più perché quando prima della partita vi dicevo a voi io sono ottimista perché lui si è sbilanciato dicendo otto anni fa non ha toccato la palla non ha ha fatto l'Argentina secondo me in base alla squadra la partita più bella di questo mondiale sì ciao Grazie a tutti.